Buon compleanno Modena amore mio per questi primi 20 anni, 20 anni di feste, 20 anni di attività nel centro storico di Modena e questa sera ovviamente la città ha risposto al primo evento di una lunga serie che festeggeranno l'associazione fino a fine anno. Questa sera con una cena speciale sotto le stelle di piazza 20 settembre ma il meglio deve ancora venire come cita lo slogan della serata e si comincia con una cena, dicevamo speciale perché è all'insegna della solidarietà, infatti i proventi ricavati di questa sera verranno tutti devoluti all'associazione Porta Aperta e nello specifico alle famiglie ucraine che vengono ospitate in città. Un lungo percorso, è un percorso molto stimolante, siamo passati da 120 soci a 220 mettendo insieme le attività più diverse, mettendo insieme istituzioni e poi la opportunità di essere in mezzo a chi come i nostri commercianti tutti i giorni lavorano per dare il meglio alla città. La Presidente è una grandissima soddisfazione, è anche una grande responsabilità essere Presidente dopo 20 anni che Modena Moremio ha raggiunto questi obiettivi di grande rappresentanza, quindi penso che è una festa dove possiamo cenare tutti insieme, tutte persone che vogliono bene a Modena, far beneficenza, penso che sia il modo migliore per festeggiare l'importanza di questo stato di promozione. Grazie alla cena di Modena Moremio sono stati raccolti 5.000 euro donati a Porta Aperta. Per noi è particolarmente importante perché è chiaramente un sostegno all'attività di accoglienza che facciamo ma è anche un modo in cui sentiamo più vicina la città e per noi questo è un fatto particolarmente importante. Buona cucina ma anche divertimento perché nel corso della serata ha detto la sua anche Roberto De Marchi, comico della scuderia del Festival della Comicità Italiana di Riccardo Benini. Io cani cieco? Perché io sono l'unico uomo guida per cani ciechi, che non è facile credetemi, perché devi lanciare il legnetto, andarlo a prenderlo e metterglielo in bocca, non è semplice, ok? Meno male che un pastore bergamasco i muri non li va a cercare e li tira su lui per pisciare.